La cena del Signore. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i Suoi discepoli gli dissero, dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei Suoi discepoli dicendo loro, andate in città, vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo e là dove entrerà dite, il Maestro chiede una stanza perché vi possa mangiare la Pasqua coi Suoi discepoli. I discepoli andarono e entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.